ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato allo iema urban traveler urban traveler proprio all'inglese no traveler scritto no in italiano detto proprio così la maccheronica orologio che mi piace mi è sempre piaciuto mi piaceva anche nella vecchia versione quella con gli indici belli tondino e una grande leggibilità aveva la data però questa qua queste nuove versioni sono state introdotte da poco ea dire il vero la grande novità l'ultimissima novità sarebbe quello con il quadrante verde perché ne esistono di differenti configurazioni di colore quadrante diciamo e però io purtroppo quando devo scegliere qualcosa da recensire io cado sempre sul nero sono veramente verde rosino azzurino tutti belli no poi ognuno di noi ai propri gusti io vado sul nero sono andato sul nero e l'ho preso dall'amico giacomo che il titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale ed anche concessionaria del marchio iema quindi sono arrivato lì ho visto la vetrina c'erano tutti questi belli orologini qua urban traveler e quasi quasi prendono iema prendo uno uno di questi qua che non l'ho mai fatto mi sono sempre piaciuti e prende il verde che è una novità è appena uscito no no non ci sono riuscito ho preso quello nero e trovo io sono banalotto prendo quello nero e recensiamo con nero un bell'orologio mi piace esteticamente ci sta anche nel prezzo perché veramente basso quindi basso tra virgolette e quindi ho deciso di portarlo sul canale e dimostrarvelo va bene o così o pomì io faccio le mie decisioni e porto quello che impara a me prima di farvelo vedere però vi mostro l'orologino del giorno che oggi è questo incomparabile oris diver 65 nella sua versione acciaio e bronzo 40 millimetri di diametro cassa quadrante blu ma che non è tanto blu perché è quasi nero siamo sempre lì è quasi nero sì alla luce del sole poi dopo magari quel blu scuro viene fuori e si intona anche bene col bronzo col bronzo invecchiato con la patina che fa il bronzo si intona bene però praticamente nero ora ora così lo vedrei quasi nero capito va bene comunque è un bello orologio ci piace tanto adesso giriamo la camera diamo un'occhiata allo urban traveler e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni globalmente generali apriamo le danze parlando delle proporzioni e per farlo occorre enunciare dei freddi numeri diametro cassa 39 mm spessore 12.4 e ingombro trasversale al polso di 48.3 mm non è presente il dato a riguardo dell'interasse anse in quanto trattasi di un bracciale integrato e come tale non sono presenti delle vere e proprie anse non è possibile montare cinturini aftermarket generici occorre anche precisare che il lag to lag è stato misurato utilizzando come riferimento le due estensioni fisse facenti parte del corpo cassa è quello l'ingombro visivo della testa dell'orologio c'è poi da tenere in considerazione che il primo segmento del bracciale è semirigido e può in parte determinare la più o meno buona indossabilità dell'orologio sono comunque alquanto inclinati e spioventi di conseguenza vanno ad avvolgere repentinamente il polso stesso conferendo all'insieme una certa continuità con il profilo cassa intendo inoltre precisare che il diametro cassa di 39 mm corrisponde alla larghezza massima della testa in quanto il dato deriva dalla misurazione presa comprendendo anche le spallette di protezione corona per dare un ulteriore parametro utile posso dirvi che il diametro della lunetta risulta essere di soli 36 mm misura che è poi quella che determina la resa visiva al polso diametro generale contenuto lunetta ridotta e ingombro trasversale minimo lo rendono indossabile da qualsiasi polso e lo fanno apparire come compatto e quasi elegante dico quasi perché di certo la sportività è il punto forte dell'orologio lo si evince dalla corona incassata tra le protezioni dalla forma geometricamente spigolosa della cassa e dalla finitura superficiale opaca e spazzolata queste ultime risultano apparire particolarmente accattivanti con quella satinatura longitudinale che pervade sia il profilo carlur che il dorso della cassa una finitura ben visibile ad occhio nudo che trova la sua ragione d'essere nel momento in cui compaiono le smussature lucide a metterle in evidenza e le troviamo sia sulla parte superiore che in quella inferiore una scelta che denota finezza e gusto uniti ad indubbia capacità di realizzazione insomma un design cassa che riesce nei limiti del possibile a discostarsi leggermente dall'usuale stile dei bracciali integrati di matrice gentiana molto è dovuto anche alla generosa lunetta sporgente che nonostante sia disegnata proprio come ci si aspetterebbe riesce a risultare originale grazie a quelle scanalature interne che ravvivano il design scanalature che sono anche se spazzolate andando a riprendere quella alternanza di biseli lucidi e superfici opache già viste sulla cassa se devo trovare un punto da elogiare in base al mio gusto personale direi che è proprio quella parte della cassa che si incurva verso il bracciale ecco semplicemente grazie a quella sorta di scivolo si è riusciti a connotare fortemente la personalità del design per quanto riguarda i dati tecnici puri abbiamo una resistenza alla pressione di ben 10 atmosfere nonostante la corona sia a pressione ma grazie anche al fondello avvitato solidamente la cassa qui troviamo lo stemma raldico di casa iema in basso rilievo e piacevolmente realizzato in questo senso c'è da dire che raramente iema utilizza fondelli trasparenti e questa è una scelta che i più apprezzeranno in quanto la solidità e il senso di robustezza dati non sono comparabili con la frivolezza di un calibro a vista calibro che in questo caso è proprio lo iema 2000 sviluppato sul mpb 1000 movimento di architettura proprietaria eredità dell'ambert che è proprietaria del gruppo un movimento low cost ormai rodato tra le cui specifiche spicca la regolarità di marcia che viene indicata in più 10 meno 10 secondi al giorno ne ho parlato più specificamente in altri video dedicati a iema e vi rimando a quelli ma ruotiamo l'orologio e diamo uno sguardo al lato a il trasparente che naturalmente è uno zaffero antigraffio è completamente piatto e da filo lunetta questo consente di evitare particolari giochi di luce e soprattutto quei fastidiosi riflessi che spesso inficiano la leggibilità ed è infatti ben visibile il contrasto tra fondo nero opaco ed accenti chiari fondo che non è semplicemente lasciato lì a decantare si tratta infatti di un quadrante che vede una particolare lavorazione a nido d'ape realizzata tramite incisione una finitura che dà il meglio di sé nel momento in cui si inclina l'orologio e si permette così alla luce di colpire il dial sotto una certa angolazione riesce a mettere in mostra tutta la particolarità di questa trama tanto complessa e laboriosa è la finitura quanto semplice ed essenziale appare il resto degli elementi l'assenza della finestra data consente di posizionare gli indici a corollario del quadrante senza soluzione di continuità appare subito palese che l'equilibrio e la simmetria sono una caratteristica peculiare di questo orologio con l'unica concessione all'estrosità se così vogliamo definirla data dal doppio indice ad ore 12 entrando nel dettaglio possiamo notare che appaiono applicati in rilievo e che è presente una sottile cornice metallica che ha il compito di delinearne la forma forma che è poi determinata da superluminova bgw9 pigmento luminescente che gli consente di apparire leggibile anche in assenza di luce questa è una caratteristica decisiva nel collocarlo tra gli orologi sportivi da tutti i giorni e non tra gli elegantoni d'abito formale per concludere la disamina non rimane che parlare del bracciale elemento che risulta perfettamente integrarsi al design del corpo cassa quel dente precedentemente osservato quale propagine della cassa viene ripreso in ogni maglia andando a disegnare un pattern ricorrente che si ripete fino alla chiusura da notare che ogni maglia è un pezzo singolo non è cioè composta da più segmenti come solitamente avviene nonostante questo è alquanto snodabile e particolarmente comodo da indossare da rimarcare che riprende la stessa finitura vista sulla testa dell'orologio una spazzolatura longitudinale inframezzata dai biselli lucidi sulla parte superiore a chiudere il tutto ci pensa una deployant a farfalla gioia e dolore come al solito bella a vedersi ben fatta ed elegante una volta chiusa ma priva di qualsiasi tipo di regolazione fine occorre lavorare sulla rimozione maglie che sono tutte della stessa dimensione fortunatamente sono piuttosto piccole e la misura la si può agevolmente trovare possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali cosa dire di questo orologio è promosso si è promosso anche perché dei punti deboli o eclatanti sinceramente fatico a trovarne fatico veramente cosa si può dire allora ecco io nella 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 panoramica ho definito il calibro low cost che detta così sembra quasi volgarmente in senso negativo no low cost in realtà no è un dato di fatto se l'orologio costa 890 euro toglici la liva le tasse e la provvigione per il venditore per la casa bla 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 quanto viene a costare quel calibro lì pochissimo per essere un calibro di architettura proprietaria no è low cost è basso costo c'è poco da dire e quello potrebbe essere un punto negativo nel senso che è un punto positivo perché un calibro in esclusiva e non c'è nessun altro punto negativo perché costa poco costa poco quindi sicuramente questo non può essere un male sicuramente le componenti vengono dalla cina dall'asia li assemblano loro lì in loco anche se ho visto che hanno dei macchinari in video li ho viste la sede di diema e ci sono dei macchinari per realizzare le componenti tutto questo è un mistero è un è una domanda che mi sono sempre fatto perché costano così poco questi calibri di architettura proprietaria lamentiamoci quando le cose costano poco no si va bene altri punti negativi non lo so la chiusura farfalla se volete ve la dico ma ce l'abbiamo tutti gli orologi con la chiusura farfalla che non si può regolare ti capita che ti sveglia la mattina è freddo e l'orologio balla alla sera si gonfia il polso magari viene caldo e l'orologio ti tira sul polso non si può regolare bisogna smontare le maglie stai lì a smontare le maglie per un giorno non conviene no per un passaggio di temperatura repentino non conviene poi il resto è solo solo punti positivi un orologio dal da dalle forme originali mi viene da dire proprio originali perché pur essendo un bracciale integrato non è che va a scopiazzare tanto tanto gli orologi visti e rivisti e anche per quelle spallette di protezione che si fatte non ne ho mai visti anche la ghiera con quelle scanalature particolari lì anche se poi visto il profilo della ghiera quello esterno ricorda tantissimi altri orologi fatti rifatti strafatti e rimbombati quindi però c'è le finiture sono veramente 890 euro finiture sono veramente di livello l'avete visto ci sono di quelle satinature alternate a dei biselli che non so come fanno va bene che ormai al giorno d'oggi fare gli orologi infatti male bisogna mettersi di impegno però sono fatti veramente bene un fondello chiuso legibilità cioè ecco un altro punto debole forse forse ma ma nemmeno tanto vabbè lo dico così proprio in passant che questa lavorazione qua sul quadrante è bella mi piace però in certi casi può diventare irritante cioè è un concetto strano non che non sia leggibile perché si legge è leggibilissimo ma irritante nel senso che non è rilassante la vedo come un qualcosa che ti stuzzica il cervello in maniera negativa va bene ora questa può essere solo una cosa mia però è anche vero così da distante non si vede quasi nemmeno la lavorazione vedi queste 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 linee questi solchi e l'orologio lo legge benissimo così solo avvicinandolo poi vedi tutte queste cose così strane che dici potrebbero dare fastidio mi irritano mi viene nervoso è capito ecco questa è veramente soggettiva questa cosa però lasciamo lasciamola lì la lancio lì così poi vai bella è promosso ragazzi ma non è che devo fare tutto io io vi ho messo lì tutte le fotografie le macro le descrizioni i dati tecnici le misure poi voi lo assaggiate lo assaggiate e dite sì mi piace no non mi piace no ve lo comprate o non ve lo comprate certo il prezzo è le tante 8,90 al giorno d'oggi poi ci mettete uno sconticino dell'amico giacomo 8,90 quanto viene meno di 800 sicuro vai tranquillo ve lo dico io boh mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto l'orologio com'è piaciuto a me vi sia piaciuto il video vi sia piaciuto il contesto il presentatore e soprattutto vi sia piaciuto il video vi ringrazio vi ricordo gli appuntamenti frissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love